Assessore, abbiamo potuto ammirare le 23.800 opere che l'artista Grilli conserva nella sua abitazione. 300 di queste vorrebbe donarle all'amministrazione comunale purché vengano esposte nell'ala di un palazzo fanese. Come avete appreso questa notizia e soprattutto le chiedo se è fattibile? Abbiamo assolutamente apprezzato questa generosità del signor Grilli. La sua collezione, la sua casa museo è già nota, soprattutto agli estimatori d'arte. Le sue parole, le parole di Gilberto sono molto belle, parla di bellezza, è vero la bellezza non sempre è compresa. L'opera d'arte ha un valore eterno ed è necessario che non sia solo privata ma diventi anche collettiva. Quindi accoglieremo con molto piacere la possibilità di poterci incontrare. Adesso cercherò nell'immediato insomma di poter avere un incontro con il signor Grilli. Se anche non sarà possibile realizzare subito il suo sogno perché uno spazio di un palazzo ancora non lo abbiamo, però certamente in attesa di poter riuscire a trovare una collocazione di queste 300 opere che lui vorrebbe donare, potremo sicuramente ragionare insieme della possibilità di realizzare un evento temporaneo, quindi una mostra temporanea dove i cittadini fanesi potranno ammirare questa meravigliosa collezione. Tra l'altro l'artista Annigoni è molto apprezzato e quindi ci sarà sicuramente un pubblico attento e interessato a questa proposta. Grazie. Grazie.